Vi racconto un gelataio. Era un personaggio di Ponte d'Era. Si chiamava Lillo e l'aveva scritto anche sul carretto del gelato. Lo vendeva anche a dicembre, l'Andervial 4 novembre, in ottobre anche alle scuole, in settembre a chi lo vuole. In agosto era arrabbiato perché tutti indeano via. Poteva vender su gelato solo a guardia e polizia. Luglio e giugno un grande impegno. Per chi indeva in passeggiata qualche tavolino in legno, ciarde, crema e cioccolata. Maggio in piena primavera scongiurava le allergie. Sempre a urlà mattina e sera. Luglio e cure sono le mie. Se mi state qui vicino avrete il cuor come un bambino. Ve lo dico con l'imbuto, più neanche uno starnuto. Guarda qui chi m'ha ascoltato come mangia armi gelato. Per aprile è giusto or detto che dormire un fa dispetto. Siuro che chi l'ha coniato non vende a certo or gelato. Marzo appena lo precede. Dice Lillo non ci scherzo. D'orgelato a chi lo chiede. Anche a un gatto ghiotto e a un orso. Di febbraio e di gennaio risistema il suo arretto. Ne ritinge anche il telaio e ne rifà tutto l'assetto. Lo pedalano passeggiate a andar via quattro novembre. Fan qua e l'acqua qualche fermata giusto a salutare la gente. Lillo tesse sempre uguale dalla svina a carnevale. E io che scorro il tempo indietro ma non torna il personaggio. Beh si sa che il tempo a un metro Pontedera gli fa un omaggio. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.